buongiorno a tutti eccoci qua con una video segnalazione oggi mi viene anche un po da vivere ma adesso vi spiego il perché caro Assessore Morda e caro Assessore Giacomini eccala sembra che ultimamente ce l'ho con l'Assessore Giacomini ma caro Assessore è lei che deve guardare queste cose ed è lei che dovrebbe risolverle mi rivolgo a voi con un tema di sensibilizzazione che sebbene ironico perché non dovrei dire io queste cose ma che affrontano la questione di grande importanza per i cittadini di Asti siamo qui davanti alla Broferio et voilà mazza come sono mago dove sia i residenti che i genitori dei bambini che frequentano la scuola hanno espresso preoccupazione per la sicurezza pubblica durante gli orari di entrata e di uscita ci troviamo di fronte ad un problema enorme genitori che si sentono in una giungla e parcheggiano dove vogliono e le autorità mute la cosa affascinante è che questa scuola si trova vicino alla questura di Assi e mi chiedo se gli agenti non abbiano notato questa situazione o se semplicemente non facciano nulla al riguardo secondo me non l'hanno mai notata capisco che sia compito dei vigili urbani sormigliare i parcheggi abusivi ma sembra che non facciano assolutamente nulla mi chiedo se i vigili stiano diventando un po come i politici prendendo lo stipendio senza svolgere il proprio lavoro sarà forse un virus politico che si sta diffondendo ma la cosa più preoccupante è che una macchina della polizia che non credo sia l'unica a passare da qui non solo non si ferma di fronte a queste macchine parcheggiate illegalmente ma nemmeno avvise i vigili si vede addirittura una macchina che parcheggia in una zona in cui le auto non possono nemmeno entrare intrecciando i pedoni che devono camminare sull'erba e se un disabile con la carrozzina deve passare da lì consiglierei a tutti i disabili di comprare una carrozzina 4x4 in modo da fare qualche sgommata sul terreno magari facendo andare un bel po di fango su queste macchine che parcheggiano dove non devono sarebbe un'idea no inoltre c'è anche un cagnolino che balla con le palle di natale in mano perché avendo problemi di prostata rischia anche di farsela addosso chiediamo un intervento immediato da parte delle forze dell'ordine e da parte vostra caro assessore morra che sembra sempre indifferente alle mie segnalazioni sicuramente per convenienza ma anche qui non so quanto mi convenga e da parte vostra assessore giacomini dove dovreste occuparvi di queste questioni ma ultimamente vedo che non è solo la questione a riguardo che non viene presa in considerazione ma ultimamente un pochino tante questioni non vengono risolte da voi che dovreste tutelare il cittadino vogliamo una spiegazione e vogliamo sapere perché nonostante il problema esista da diversi anni nessuno ha mai fatto nulla al riguardo sto facendo questa segnalazione e vi invito di risolvere il problema al più presto perché se qualcuno si fa male le denunce non tarderanno ad arrivare inoltre vorrei sottolineare che la situazione è particolarmente problematica per le persone disabili se un disabile dovesse passare di qui non potrebbe nemmeno avvicinarsi alla scuola a causa delle macchine parcheggiati in modo selvaggio e dovrebbe passare in mezzo alla strada creando un pericolo per lui e per gli altri questo è un grave ostacolo all'accessibilità e alla libertà di movimento per le persone con disabilità che dovrebbero essere tutelate e sopportate dalla nostra amministrazione siamo rappresentati da politici che non ci rappresentano e che prendono stipendi senza svolgere il proprio lavoro in maniera gratuita è ora di agire dimostrare che siamo qui per il bene dei cittadini e per garantire la sicurezza di tutti inclusi i disabili porca miseria ma queste cose non dovrei dirle io una buona giornata a tutti